Dopo il grande lavoro dei volontari, che rischia di essere vanificato dagli incivili sempre in agguato, riparte il giro di vite contro l'abbandono dei rifiuti. Sarebbero almeno una decina i soggetti scoperti dalla polizia locale nel corso degli accertamenti esperiti nelle zone più esposte alle mini discariche abusive. Dalla lettura di scontrini e documenti, che riportano sostanzialmente la firma degli autori dell'insano gesto, i vigili urmani procederanno nelle prossime ore ad elevare sanzioni amministrativa dopo evidentemente le opportune verifiche, perché alcune buste di rifiuti potrebbero essere riconducibili alla stessa persona. A fianco dei volontari sono scesi di nuovo in campo, su disposizione del vice sindaco e del comandante Gian Caterino, gli uomini della polizia locale, coadiuvati dalla collaborazione del personale del Coggesa, numerosi controlli effettuati che hanno portato all'individuazione dei trasgressori e quali nelle prossime ore saranno notificate le relative sanzioni. Non si tratta di un'operazione isolata, perché sarà ripetuta quotidianamente e ulteriormente incrementata la posizionamento di fototrappole in diverse zone del territorio cittadino, annuncia il vice sindaco della città, Franco Casciani. La prevenzione in effetti non basta più.